di chiedere scusse quando in famiglia sbagliamo. Alcune settimane fa in questa piazza ho detto che per portare avanti una famiglia è necessario usare tre parole. Voglio ripeterlo. Tre parole. Permesso. Grazie. Escusi. Tre parole chiave. Chiediamo permesso per non essere invadenti. In famiglia posso fare questo? Ti piace che faccia questo? Quel linguaggio del chiedere permesso. Diamo grazie. Grazie per l'amore. Ma dimmi tu, quante volte al giorno tu le dici grazie a tua moglie e tu al tuo marito? Quanti giorni passano senza dire questa parola grazie? E' l'ultima scusa. Tutti sbagliamo e dalle volte alcuno si offende nella famiglia e nel matrimonio. forte, alcune volte io dico volano i piatti, si dicono parole forte. Ma sentite questo consiglio. Non finire la giornata senza fare la pace. La pace si rifà ogni giorno in famiglia, senza chiedersi scusa. Scusa, scusatemi, e se rincomincia di nuovo. Permesso? Grazie. Scusi. La diciamo insieme? Permesso? Scusi.